Un fabbricato rurale trasformato in un laboratorio abusivo privo dei requisiti igienico-sanitari e strutturali che serviva alla lavorazione e al confezionamento di olive in salamoia e conserve vegetali. Lo hanno scoperto nella Marsica i carabinieri del NAS di Pescara in collaborazione con i colleghi di Avezzano. Oltre a laboratori e militari hanno sequestrato 15 tonnellate di alimenti in cattivo stato di conservazione per un valore di oltre 2 milioni di euro. Il fabbricato in questione di proprietà di un 50enne di Cerignola in provincia di Foggia che è stato denunciato assieme a due complici per frode in commercio e detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. Agli indagati inoltre sono stati contestati illeciti amministrativi per diverse migliaia di euro. I carabinieri del NAS coordinati dal capitano Domenico Candelli dopo aver individuato il fabbricato hanno avviato una serie di accertamenti che hanno portato a scoprire il laboratorio abusivo in cui le confezioni venivano etichettate con la denominazione la sede di una ditta inesistente di Cerignola. Nel cortile dello stabilimento i carabinieri hanno poi rinvenuto olive contenute in fusti di plastica di circa 150 kg ciascuno esposte agli agenti atmosferici. Le olive ricoperte da muffe venivano sottoposte a procedimento di ripulitura e addolcimento con l'utilizzo di acqui di pozzi della zona e quindi confezionate con etichette false sequestrate anche queste dai carabinieri. All'esito delle indagini la procura della Repubblica di Avezzano ha emesso un decreto di perquisizione dello stabilimento eseguito nei giorni scorsi che ha portato al sequestro di due distinti immobili collegati da un'area esterna adibiti al laboratorio e deposito delle attrezzature per il confezionamento e di 15 tonnellate di alimenti vari.